Ancora una volta dal gruppo Ecco il gruppo si è ricompattato ancora una volta Ecco tante tentative di fuga 7 attretti sono ancora una volta staccati Ma il gruppo lì ha 20 metri Un po' ancora Compatto Tantissimi tentativi di fuga Sì sì, tutto a posto, sono stato tranquillo in gara In gara adesso appena passiamo siamo ai 3 km Appena passiamo sono alla campana Ah ok E dopo vi raccomando, ricordi la macchina fotografica Quando schiacci che era il primo colpo di volto non va Sì 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 Ecco il gruppo ancora compatto Ok adesso noi siamo ai Ancora compatto Comunque il gruppo è ancora compatto Ecco il gruppo ancora compatto Si sono ancora una volta allargati Tanti tentativi di fuga Ma si sono sempre ricompattati Ecco il gruppo ancora compatto